Buongiorno a tutti, quando mi approcciai, mi avvicinai alla storia militare comprai una serie di pubblicazioni anche in un'altissima qualità scientifica che potessero magari essere reperiti con una certa facilità di bancarelle in realtà diciamo di pronto acquisto e pronto uso e tra le varie pubblicazioni comprai questo fascicolo su Montgomery edito dal Fabri, Fabri di Torre, tra l'altro ne ho diversi numeri qui ho anche Hitler e ho anche Churchill e diciamo di una fruizione abbastanza contenuta essendo di poche pagine circa una sessantina e che inquadravano in qualche modo questi protagonisti della seconda guerra mondiale ce ne erano anche altri, c'erano stati Eisenhower, Badoglio, Stalin, Churchill, Mussolini, Tito, Vittorio Emane III quindi diciamo era una collana che in qualche modo cercava di rappresentare in maniera più o meno approfondita alcuni protagonisti della seconda guerra mondiale e sfogliando proprio questo su Montgomery ero incappato appunto nella circostanza che lo stesso Montgomery fosse stato negli anni interpretato anche durante la seconda guerra mondiale da attori che in qualche modo facevano il verso soprattutto in funzione di possibili operazioni segrete di sviamento da parte dei tedeschi cioè di cercare di confondere le acque nell'intelligence dei paesi dell'asse e a tal proposito mi è capitato recentemente in lingua inglese con sottotitoli in italiano non l'ho trovato di vedere il film La battaglia segreta di Montgomery un film del 1958 per la rugia di John Guglielmin Guglielmin che in questo canale abbiamo incontrato varie volte un regista che io apprezzo molto sia per le pellicole prettamente belliche pensiamo Cannoni a Batasi, La caduta delle aquile pensiamo a Il ponte di Remagen quindi diciamo dei film che in qualche modo se non in primissima conoscenza non sono dei film colossal di grandissima conoscenza pensiamo che ne so a quella sporca tozzina dove sono le aquile quell'ultimo ponte o Il giorno più lungo ma che si collocano in una posizione mediana di film di grande qualità con degli attori che magari appunto non fossero di primissimo piano pensiamo a Peter Van Eyck pensiamo a Robert Vogue quindi dei attori che comunque hanno dato un proprio contributo e John Guglielmin tra l'altro ha diretto pellicole anche di altri generi che secondo me hanno segnato anche la storia del cinema pensiamo a Inferno di Cristallo con Steve McQueen e Paul Newman ma anche con tantissimi altri Robert Wagner, Frank Sinatra, William Holden e chi più ne ha più ne metta e Dan Fadway veramente di grandissimo impianto e anche Assassino sul Nilo ovviamente Assassino sul Nilo quello originale degli anni 70 con Peter Ustinov, con David Niven con veramente George Kennedy cioè cast di una grandezza che appunto fa un po' impallidire le recenti versioni che sono state prodotte in tempi abbastanza recenti sull'onda dei romanzi di Agatha Christie ma dicevo quindi John Guglielmin nel 1958 realizza questo film un film interessante tipicamente inglese che appunto va a fare un po' anche il verso a una certa commedia brillante pensiamo come i film inglesi sulla seconda guerra mondiale soprattutto negli anni 50 hanno una loro connotazione molto brillante perché cercano di ricordare soprattutto alla generazione che ha vissuto la seconda guerra mondiale quindi diciamo con dei momenti particolarmente drammatici pensiamo appunto alla battaglia d'Inghilterra i bombardamenti quindi l'assedio navale quindi veramente nel 1940-41 gli inglesi, i britannici non è che se la tornano passata bene hanno combattuto erano gli unici sostanzialmente che si opponevano alla Germania o comunque all'asse e però allo stesso tempo potessero in qualche modo dare un segnale di leggerezza che in qualche modo appunto potessero anche portare il pubblico a vedere dei film e sorridere e ridere attraverso il ricordo di esperienze comunque drammate quindi abbiamo una carrellata molto ampia di pellicole del cinema bellico appunto che in qualche modo si va a confondere con la commedia che tra l'altro sono un po' l'ispirazione che porterà l'Italia a assaggiare a provare del film di questo tipo pensiamo alla fortuna che a partire dal 1960 pensiamo come il 1960 è l'anno dei due nemici non a caso una produzione anglo-italiana per la regia di Hamilton Hamilton con David Niven quindi c'è un senso di comunanza e di osmosi potremmo dire tra il cinema bellico con toni anche un po' umoristici toni leggeri che vanno tra gli anni 50 nel Regno Unito e in Italia a partire dagli anni 60 quindi tutte quelle commedie pensiamo commedie ma anche diciamo film drammatici ma che comunque hanno dei canoni abbastanza eclettici pensiamo appunto a film come il federale tutti a casa la marcia su Roma i film con Totò quindi tutta una serie di pellicole che affrontano il tema della seconda guerra mondiale ma non solo anche il fascismo in generale anni ruggenti quindi con delle tematiche legate al periodo del ventennio fascista inserendo anche la seconda guerra mondiale ma con un'attenzione verso anche il poter sorridere agli eventi drammatici che vengono raccontati nello specifico l'elemento interessante del film la battaglia segreta di Montgomery è l'inserimento di una sorta di meta racconto perché perché effettivamente durante la seconda guerra mondiale l'attore Clifton James che era un ufficiale pagatore che si occupava di amministrazione che però aveva esperienze attoriali ben iniziò ad essere prima chiamato in maniera così sporadica come sosia come imitatore di Montgomery ma poi venne chiamato proprio effettivamente all'intelligent service perché perché poteva essere utile nell'attività di deviazione di 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 confusione da parte dell'organizzazione dello sbarco in Normandia nella nella prima metà del del 1944 quindi cercare di confondere le idee ai tedeschi quindi magari far credere altre cose rispetto al programma diciamo canonico che appunto avrebbe portato lo sbarco in Normandia stessa e quindi dal racconto di Clifton James che aveva realizzato un volume nella metà degli anni 50 tra l'altro egli era vincolato fino a un certo punto dal segreto di stato su questa operazione ma poi visto che ne ha parlato Eisenhower in un volume di memoria quindi ha sostanzialmente sdoganato il segreto di questo avvenimento e quindi Clifton James ha potuto nel 56 dare spazio a questo racconto un racconto che ha avuto un certo successo un certo interesse generale tant'è che appunto sono stati comprati i diritti per un film che poi appunto si è stato realizzato nel 58 e l'elemento interessante che venne chiamato proprio lo stesso Clifton James e in qualche modo un po' fa il verso a Odie Murphy che era stato chiamato appunto nel suo racconto quindi che appunto in questo caso un personaggio veramente un soldato che racconta la sua storia che poi viene chiamato per interpretare se stesso nel film tratto dalla sua storia quindi diciamo è interessante capire questo parallelismo tra Murphy e Clifton James che in qualche modo ci offre anche come a breve distanza dalla seconda guerra mondiale stiamo parlando di appena 12-13 anni dagli avvenimenti narrati in qualche modo lo stesso protagonista che ci scrive un libro e viene chiamato poi per interpretare se stesso e quindi è anche un interessante spaccato di come la letteratura la società la cultura e il cinema possano in quegli anni aver avuto un completo coinvolgimento e sconvolgimento si mischiano tutti gli elementi per realizzare poi un film molto molto gradevole un film che come dicevo si inserisce all'interno dei canoni classici della commedia brillante britannica ovviamente anche con delle scene di drammaticità verranno utilizzate anche delle parti inedite sostanzialmente inventate la sceneggiatura poi inserisce altre parti pensiamo a un supposto rapimento dello stesso Sosia di Montgomery che appunto inconsapolmente i tedeschi cercano di metterlo di sbarazzarsi e di eliminarlo quindi ecco come l'elemento interessante di questo film è non soltanto l'aspetto di racconto con un tipico stile humor britannico anche utilizzando però attori di un certo calibro che appunto magari pensiamo a Mills John Mills eccetera che appunto hanno una loro un loro retroterra culturale all'interno della cinematografia e della società britannica ma che in qualche modo rappresentano veramente un elemento interessante e in quel momento molto fortunato di poter raccontare e l'aspetto del rispecchiamento in cui sia nel film ma anche poi nella realtà non si capisce qual è il Sosia e qual è il vero nel film questo elemento compare periodicamente dall'inizio alla fine del film e si racconta di come lo stesso Montgomery fosse andato che tra l'altro era stato coinvolto almeno per chiedere una sorta di autorizzazione nulla osta per la realizzazione di questo film si era presentato al cinema per vedere il film e venne scambiato per lo stesso Clifton James quindi una sorta di continuo rispecchiamento in cui non si riesce mai a capire qual è il vero e qual è il falso per quanta la costruzione di un personaggio possa essere assai realistico e assai coinvolgente nell'intero intreccio degli avvenimenti narrati quindi una pellicola che vi suggerisco di poter vedere magari appunto io l'ho trovata in lingua originale non l'ho trovata tradotta in italiano doppia in italiano forse non so se neanche esista ho dovuto difficoltà anche a trovare dei riferimenti per darvi qualche informazione in più rispetto a quello che posso aver visto nel film o mi posso essere documentato attraverso una così sommaria analisi di testi appunto a partire da questo volume che appunto va a condensare anche la possibilità tra l'altro appunto lo stesso David Niven all'epoca di essere chiamato per questo però diciamo tutta una serie di aspetti interessante come nella realizzazione del film potesse essere chiamato per esempio Lawrence Olivier per interpretare il ruolo di Clifton James ma poi alla fine viene chiamato proprio Clifton James quindi è anche interessante il modo di comprendere approcciare come dicevo a ridosso della seconda diciamo nell'immediato dopo guerra pochi anni si potesse ancora poter fare questo gioco in cui gli stessi protagonisti potessero interpretare se stessi un evenimento che per esempio non è avvenuto nel 62 con il giorno più lungo quando si chiese si interia si voleva chiamare lo stesso Eisenhower per interpretare se stesso ma ovviamente era molto vecchio e quindi era impossibile poter rendere credibile nella 62 un generale come era lui diciamo rispetto a 18 anni prima quindi diciamo anche pochi anni dopo già questo gioco delle parti non era più possibile farlo però in questa pellicola ancora era possibile giocarci su e l'elemento ancora molto interessante per parlare della commedia britannica sappiamo come gli inglesi hanno sempre un rapporto abbastanza ambiguo con la sessualità con l'elemento di grande vorrei ma non posso del detto e non detto e in questo film il rapporto soprattutto tra i due sessi all'adere ovviamente della storia principale emerge con una sua gradevolezza con una sua leggerezza ma appunto anche il rapporto nell'ipotetico tradimento il matrimonio emerge ed è un elemento appunto che secondo me è da sottolineare all'interno di un discorso come dicevo della commedia brillante britannica che negli anni 50 va un po' a essere in controtendenza in contrapposizione a un melodramma americano pensiamo ai melodrammi americani degli anni 50 hollywoodiani in cui vi è un carico emotivo di un trasporto la conflittualità il tradimento pensiamo da qui all'eternità quindi diciamo di un un elemento di grande conflitto di grande invece qui è molto più leggero in cui alla fine anche il tradimento seppur non consumato acquista un elemento di grande leggerezza che ci stempera qualsiasi tipo di approccio di pregiudizio di conflitto di senso di colpa che appunto poi gli inglesi in questo sono dei maestri quindi diciamo tanto di cappello nel rendere anche questo elemento all'interno di un film composito eclettico come può essere appunto la battaglia segreta di Montgomery detto questo come al solito vi invito a mettere mi piace iscrivetevi al canale alla prossima ciao ciao